Iniziamo il consiglio comunale con un solo progetto all'ordine del giorno, sarebbe la surra di consigliere missionario contestuale e combattere il consiglio in surra ai sensi dell'articolo 38 della legge del decreto, tanto ce l'ammarichiamo per la fuoriuscita della nostra estanza, la quale ce l'avamo abituati per la sua bontà, per il suo bel lavoro, per la pazienza che aveva, ci rammarichiamo, però nello stesso modo ci ralleghiamo dopo la votazione giustamente del consigliere Genja, il signor Marino, al quale io dico che da subito, da quanto dopo noi, che noi voteremo, si deve mettere a lavorare. Lavorare significa che deve lavorare per costruire e non distruggere e ci vogliamo che tutto questo avvenga. Grazie. Passiamo. Come ha anticipato il Presidente del Consiglio, oggi dobbiamo discutere della surroga del consigliere comunale Faenza Calmera che si è dimessa con lettera indirizzata al Sindaco, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio e ai componenti del Consiglio Comunale, protocollata in data 21 novembre 2014, di cui io adesso do lettura. Io ho sottoscritto da Calmera Faenza, nata AIL, con la Presidente del Consiglio e con la decisione di rassegnare la dimissione del consigliere comunale di codesto ente. Consapevole che il detto ruolo istituzionale deve essere svolto con costanza, dedizione e abbenegazione. Mi ritrovo in possibilità di esplicare il mandato elettorale con il giusto impegno che richiede. Pertanto orgoglioso comunque di aver ricoperto questa carica nonché di essermi prodigata per quanto possibile dal mio contributo a questo Paese. Scusandomi e ringraziando tutti coloro che mi hanno dato il mio rapporto e la sua fiducia, porgo il più caloroso e auguro di buon lavoro a chi mi succederà in rappresentanza dell'intero gruppo, cambiare si può, dottoressa Carmela Faenza. Dunque, quindi a seguito di queste dimissioni che sono irrevocabili, entro dieci giorni il Consiglio comunale deve procedere alla scultura con il primo dei non eletti. Nei termini di legge, oggi scadono i dieci giorni, abbiamo convocato il Consiglio per surrogare la consigliera della Faenza con il primo dei non eletti della lista cambiare si può che è il signor Marino Carmelo, il quale ha presentato al Comune, precisamente al Secretario Comunale, la dichiarazione, così come fatto dagli altri consiglieri comunali, la dichiarazione, l'autocertificazione con cui dichiara l'assenza di situazioni di incompatibilità, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, numero 235, l'assenza di situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità, l'assenza di cause di incompatibilità e di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, presso gli enti privati di controllo pubblico, disciplinate dal decreto legislativo 39-2013, dell'articolo 10 del decreto legislativo 245-2012. Per cui se nessun consiglio ritiene che vi siano cause ostative, propongo di prendere atto delle dimissioni e quindi di procedere alla surroga della dottoressa Faenza Carmela con il primo dei non eletti della lista cambiare se può che il signor Marino per me. Allora, innanzitutto chiedo al Presidente del Consiglio se ha esaurito la sua relazione al Consiglio con la lettura soltanto, con l'invito, con il dispiacere di rallegramenti successivi. Se ha altro da dire, perché l'articolo 41 del decreto legislativo che regola e disciplina la legge comunale e provinciale parla del Consiglio che deve verificare le condizioni di elezioni e l'elegibilità dei consiglieri comunali. Non so se il Presidente deve aggiungere qualt'altra cosa, il signor è esaurito, non ha detto oltre quello che ha detto, per pare che non ha detto altro. Se il Presidente deve aggiungere qualcosa in merito alla attendibilità. Noi pensiamo che è attendibile anche perché c'è un'alta certificazione del signor Marino, noi non possiamo andare a fare tutti i vari percorsi che bisogna fare in 10 giorni, non è possibile, quindi noi ci affidiamo alla sua autocertificazione e per noi va bene. Allora prendiamo atto le dichiarazioni del Presidente del Consiglio e quelle del Sindaco, diciamo che non è affatto vero caro Presidente che voi o noi come Consiglio, perché la legge parla di Consiglio Comunale, possiamo e dobbiamo effettuare nei 10 giorni successivi alla dimissione di un consigliere le condizioni di elegibilità di chi poi dovrebbe essere. Detto questo, quindi non è affatto vero che non si poteva fare niente. L'autocertificazione è un mezzo di semplificazione burocratica e non è il primo Consiglio Comunale, anche se in questo primo Consiglio Comunale è stata contestata proprio da parte della consigliera Faenz la candidata di elegibilità di alcuni consiglieri comunali e per motivi giudiziari e per motivi contenziosi, eventuali o morosità con i tributi comunali da parte di tutti i consiglieri comunali, tant'è vero che pure noi come gruppo del PD ci siamo associati chiedendo al Sindaco nella prima seduta, che avremmo gradito di conoscere se almeno nell'ultimo dunquegno tutti i consiglieri comunali, me compreso, e che lo siamo apposto con il pagamento dei tributi comunali. Quindi prendiamo atto che non avete fatto questi aggiustamenti. E allora, siccome il Presidente, pure di parte della prima parola, ha detto che anche la consigliera Faenza si è dispeggiuta di dover abbandonare il Consiglio Comunale, che è il massimo organo istituzionale rappresentativo della cittadinanza, noi desideriamo che non ci siano ombre alcune su tutti i consiglieri comunali, in particolare sul punto all'ordine del giorno, per cui noi chiediamo ufficialmente come gruppo PD al Presidente del Consiglio Comunale il rinvio di questo punto all'ordine del giorno perché l'amministrazione comunale possa verificare, così come prescrive l'articolo 41 del decreto legislativo, la legge che praticamente è stato scritta, che abbiamo stato scritto pure noi consiglieri comunali, sulle condizioni di elegibilità dei consiglieri comunali. Quindi chiediamo ufficialmente il rinvio di questo Consiglio Comunale, di questo punto, per verificare le condizioni di elegibilità e di elegibilità del primo dei loro elettori. Grazie. 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 Di un consulto tra la maggioranza abbiamo deciso di passare subito alla surroga del consigliere Faenza a favore viene a succedere il signor Marino. Questo perché solo da un'interpellanza, chiamiamola così, fatta dal Partito Democratico cioè dai consiglieri di minoranza che hanno detto come mai prima non si è tenuto conto del fatto che la dottoressa Faenza aveva fatto qualcosa più o meno del genere, nella quale abbiamo deciso, allora si era parlato, bastava una dichiarazione fatta intanto noi andiamo per buona con la dichiarazione fatta dal signor Marino. Naturalmente ci proteggiamo nei giorni successivi a verificare se tutto è a posto. Quindi noi passiamo, per noi si può passare alla surroga. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. La motivazione che è scritta tutta. Certo che ci sono. chi è favore se la proposta chi è concierto facciamo alla proposta di Sur allora abbiamo solo il risultato che noi non avendo messo a corta la nostra richiesta dell'invio lasciamo la il consiglio grazie 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 il consiglio è giusto non abbiamo altri punti se c'erano altri punti non devi fare così così come abbiamo fatto presentemente che abbiamo fatto le verifiche lì si trattava di verificare attraverso l'ETR verificheremo anche alla luce di quanto proposto dai consiglieri di tutti la verifica di quanto contenuto nell'autocertificazione presentata dal nero consigliere ovviamente lo faremo nel tempio dovuti come dico Carmelo si può fare solo un ringraziamento però un ringraziamento è fuori dalla salute fuori dalla salute si vorrei volevo ringraziare e sono onorato di entrer far parte del consiglio comunale di Bova Marina per i presenti per gli assenti mi dispiace per loro e vi volevo invitare sabato alla sala Ilse dove farò una conferenza stampa dove parlerò di questi sei mesi di minoranza. Vi voglio ricordare una cosa, non c'è democrazia dove non c'è minoranza, solo questo. Grazie.